Sono Massimiliano Politori, account manager Italia per Invisalign, nello specifico per il business ITIRO. Sono qui nel contesto di SIDO 2015 per lanciare e promuovere la nuova scommessa in ambito digitale da parte dell'azienda. Siamo usciti con un nuovo modello per la scansione digitale e siamo orgogliosi di averlo presentato in una cornice così importante all'interno di un contesto che costituisce comunque per Align Technology la madre dei propri mercati. ITIRO è sicuramente l'inizio o la prosecuzione in ambito digitale di quello che l'azienda vuole costruire in questi anni, quindi noi ci dedichiamo molto al concetto di digital environment, quindi cercare di portare evoluzioni in ambito prettamente digitale all'interno degli studi con i quali lavoriamo molto bene in partnership. Lo scanner costituisce un punto di forza per i nostri provider, abbiamo dei vantaggi effettivamente sostanziali per chi decide di intraprendere questo tipo di percorso, con una serie di benefit collegati all'acquisto, quindi la possibilità di avere un'impronta ottimale, quindi senza rischio di rigetto in tempi veramente ridotti, parliamo di tre minuti per una scansione completa di un paziente tra le due arcate e il morso, ha vantaggi in termini anche comunicativi, quindi avere la possibilità di poter far valutare i risultati finali del proprio trattamento al paziente in tempo reale, cioè avere la possibilità di gestire virtualmente la bocca del paziente attraverso il clean check sull'impronta appena presa. Quindi una serie di benefit che vanno da aspetti meramente logistici, quindi dalla presa di impronta, quindi risparmio di tempi, risparmio di spazi di magazzino, risparmio di materiali, a vantaggi in termini comunicazionali, quindi in ambito soprattutto marketing della propria comunicazione per uno studio, potersi posizionare ad oggi all'interno di un'elite che riguarda ancora meno del 5% del mercato e avere un vantaggio competitivo nei confronti dei competitor della propria zona.